Su questo laurotino deve essere passato uno ziorrinco e probabilmente anche più di uno. Vedete tutte le tacche che si notano sulle foglie più vecchie, quindi probabilmente è un passaggio poco recente. Comunque lo ziorrinco è difficile da vedere di giorno perché è un animaletto notturno e si può eliminare solo mediante geodesinfestanti chimici o biologici. Sappiatelo!